Nelle puntate scorse vi abbiamo fatto vedere delle foto delle nuove Porsche che verranno presentate al salone di Francoforte, adesso abbiamo anche le immagini e vediamo tutte e tre, perché sono tre le novità della cassa tedesca, si tratta della Porsche 911 Turbo, della Porsche 911 GT3 RS e della Porsche 911 Sport Classic, vediamole. Più potente, più larga, più veloce, la nuova versione della Porsche 911 GT3 Cup offre ai numerosi appassionati di tutto il mondo prestazioni ancora più elevate. Le rede della vettura sportiva prodotta fino ad oggi in ben 1400 esemplari si ispira soprattutto alla 911 GT3 RS. Il peso della vettura da corsa è stato ridotto in modo significativo rispetto alla versione da strada, già in costruzione leggera. Per la prima volta nella 911 GT3 Cup la carrozzeria è stata allargata di 44 mm nella parte posteriore per accogliere i cerchi maggiorati. Anche i passaruota anteriori più larghi contribuiscono a catturare l'attenzione sul nuovo concept. Rispetto alla versione precedente aumentano anche la cilindrata di 0,2 litri e la potenza del motore di ulteriori 30 cavalli. I dati principali sono motore boxer 6 cilindri da 3,8 litri con una potenza di 450 cavalli, cambio sequenziale a 6 innesti frontali, peso di 1200 kg. La nuova 911 GT3 Cup si riconosce al primo sguardo dal frontale. Il gruppo ottico si ispira all'attuale generazione 911. La parte frontale è uguale a quella della 911 GT3 RS, ma lo spoiler anteriore è ribassato di 15 mm per garantire una maggiore aderenza all'asse di posto. Anche la deportanza dell'asse posteriore aumenta grazie all'ala fissa, maggiorata da 1,46 a 1,7 metri e montata in posizione rialzata. La stessa montata sulla 911 GT3 Cup S, costruita per le gare internazionali FIA GT3. La parte posteriore, con le evidenti aperture per il deflusso dell'aria e le luci posteriori con tecnologia LED, riprende il modello stradale. Il motore della nuova 911 GT3 Cup è praticamente uguale al propulsore di serie della 911 GT3 RS, come la potenza straordinaria di 450 CV e il regime massimo di 8.500 giri al minuto. Rispetto alla versione precedente, la cilindrata è stata potenziata da 3,6 a 3,8 litri. La potenza è aumentata di 30 CV. Grazie all'impianto di scarico racing con catalizzatore, le emissioni di sostanze nocive sono ridotte al minimo, esclusivamente per la Porsche Mobile One Super Cup che si svolge nell'ambito del campionato FIA di Formula 1. È previsto l'impiego di un impianto di scarico che produce un sound ancora più vigoroso. Alla versione Super Cup è riservato anche l'impianto frenante PCCB, Porsche Ceramic Composite Brake, disponibile inoltre per i modelli Porsche stradali. Questo tipo di impianto consente un risparmio di 20 kg rispetto ai dischi in acciaio compositi impiegati nella versione Carrera Cup. La nuova Porsche 911 GT3 Cup, disponibile esclusivamente in colore bianco Carrara, sarà a disposizione dei clienti a partire dalla fine di ottobre. Durante la prossima stagione, disputerà 7 campionati monomarca, partecipando alla Porsche Mobile One Super Cup nell'ambito della Formula 1 e alle Porsche Carrera Cup Deutschland, Asia, Japan e Italia, nonché al GT3 Cup Challenge negli Stati Uniti e Medio Oriente. Il prezzo base in Europa della nuova 911 GT3 Cup è pari a 149.850 euro, IVA esclusa. A Francoforte, Porsche presenterà anche la 911 Sport Classic, edizione limitata a soli 250 esemplari. La vedremo con un look anni 70 e motore da 408 CV e trazione posteriore. Porsche 911 Sport Classic. Questa semplice sigla identifica una delle quattro ruote più fascinose tra quelle viste negli ultimi tempi e celebra il mito Porsche 911. Il posteriore in particolare è in larga parte inedito, con il caratteristico spoiler posteriore a becco d'anatra della Porsche 911 RS primi anni 70. Il posteriore in particolare è in larga parte inedito, con il caratteristico spoiler posteriore a becco d'anatra delle quattro ruote più fascinose. In quanto ricordano in tutto e per tutto i mitici Fuchs, proposti in tinta bicolore, neri con canale cromato, aumentano ulteriormente la grinta della vettura, coadiuvati dall'assetto sportivo praticamente raso terra. I passaruota posteriori sono allargati di oltre 4 cm, mentre il tetto sfoggia due gomme sopra le teste di pilota e passeggero, molto aggressive. Il fascione anteriore è più avvolgente e mostra un ulteriore profilo aerodinamico. Impossibile non citare la splendida colorazione tra il bianco e il grigio, sottolineata da due strisce in leggero contrasto cromatico che attraversano tutta la vettura. Il propulsore è il 3,8 litri della 911 S, portato a ben 408 CV. I tecnici Porsche hanno aumentato di altri 23 CV, sostituendo il collettore di aspirazione e con altre modifiche meccaniche armonizzate, ovviamente, da una nuova taratura della centralina elettronica. La trazione rigorosamente posteriore e il cambio manuale a 6 marce aumentano l'effetto Vintage GT. Il differenziale autobloccante e freni carboceramici completano la dotazione di questo gioiello, proposto in tiratura limitatissima, 250 esemplari per tutto il mondo.